Dopo giorni di intenso dibattito, il Governo incontra nuovamente le parti sociali a Palazzo Chigi per definire i termini della riforma del mercato del lavoro. Lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nelle scorse ore, aveva auspicato il raggiungimento di un'intesa da sindacati, imprese ed esecutivo. Il punto di maggior contrasto rimane l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Governo ed imprese si muovono in direzione di una modifica sostanziale della norma che garantisca maggiore flessibilità al mercato, mentre i sindacati, che non sono ancora riusciti a trovare una posizione comune sul tema, respingono le proposte presentate dal Ministro del Welfare, Elsa Fornero. Il mondo politico, intanto, commenta l'incontro. Il capogruppo del PDL a Montecitorio, Fabrizio Cicchitto, è contrario a soluzioni al ribasso. Accordi globali tra le parti sociali sarebbero preferibili, ha ricordato Cicchitto, ma un solo sindacato non può porre il veto sull'articolo 18. Di diverso avviso, Savino Pezzotta, il centrista, dopo aver ricordato che quello dell'articolo 18 non è l'elemento centrale di una riforma del mercato del lavoro, illustra la strada da percorrere al governo Monti. Secondo l'ex segretario della CISL, deve trionfare la saggezza. È necessario un accordo che dia un segnale di forte coesione sociale nel paese. Sulla stessa linea, la democratica Marina Sereni. Serve un'intesa positiva su ammortizzatori sociali e mercato del lavoro. Le parti sociali, ha continuato la Sereni, devono ascoltare le parole del capo dello Stato. Più critico il dipietrista Massimo Donadi. Secondo il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, un eventuale indebolimento dell'articolo 18 non porterà un briciolo di competitività in più, ma produrrà unicamente disoccupazione. Il governo, ha concluso Donadi, ha imboccato una strada sbagliata, una battaglia ideologica che non affronta i veri problemi del mercato del lavoro. Noi riteniamo che appelli a accordi complessivi siano in linea di principio o giusti, ma che però non c'è una discriminante per cui o c'è la firma di tutti oppure non si deve fare niente. Perché questo implicherebbe una soluzione al ribasso, mentre invece sull'articolo 18 e sul mercato del lavoro è indispensabile che ci siano soluzioni innovative, come ci è richiesto dall'Europa, in questo e in altri settori. Negli altri settori siamo andati avanti e dobbiamo andare avanti anche in questo. Meglio tutti d'accordo, ma nel caso in cui non c'è l'accordo non è che un solo sindacato può avere un potere di veto. Il problema è che ci sta una situazione nella quale molti imprenditori hanno, nella loro azienda, una larga maggioranza di lavoratori ad alta capacità e ad alta efficienza e hanno alcuni che non fanno nulla. Però per evitare cause e così via, poi quelli che non fanno nulla bloccano l'assunzione di altri lavoratori che potrebbero essere impegnati. Quindi ci troviamo in un ingranaggio infernale in cui la moneta cattiva scaccia quella buona. Io credo che oggi il valore intrinseco dall'intesa sia superiore a quello di una qualsiasi modifica dell'articolo 18. Io credo che bisogna far pionfare un po' di saggezza, un po' di pazienza politica, perché tanto quello che non si può fare oggi si può fare domani, ma quello che si deve necessariamente fare oggi è un accordo che dia il senso di una grande coesione sociale del Paese rispetto ai problemi che abbiamo di fronte. E allora questa sia la strada che il Presidente Monti dovrebbe perseguire. L'articolo 18 non è l'elemento centrale di una riforma del mercato del lavoro. Credo che si possa anche vedere nel tempo, ma oggi credo che l'interesse economico, sociale, politico sia quello di raggiungere un'intesa per dare l'idea che sulle questioni del risanamento, sulle questioni del rilancio del Paese si è determinata una grande convergenza che non è solo quella delle forze politiche, ma è anche quella delle forze sociali. Se per questo bisogna rinunciare a qualcosa, ne vale la pena. Chiediamo alle parti sociali di ascoltare le parole del Presidente Napolitano. Serve un'intesa, un'intesa positiva, un accordo su ammortizzatori e mercato del lavoro che possa essere un motivo per sostenere la crescita e il lavoro nel nostro Paese. Il tema dell'articolo 18 è stato esaminato. Noi siamo per il modello cosiddetto tedesco che unisce reintegro e indennizzo, siamo in ogni caso disponibili a sostenere un accordo se questo accordo avrà il consenso del sindacato e delle imprese. Indebolire l'articolo 18 non porterà un briciolo di competitività in più alle aziende italiane e produrrà solo maggiore disoccupazione. Quindi il punto non è l'accordo o non l'accordo, è che il Governo ha imboccato una strada sbagliata e da questo vicolo cieco non c'è un'uscita positiva per il Paese. Questa battaglia ideologica che il Governo ha imbracciato sull'articolo 18 serve solo come specchietto per la lodola e per non affrontare i problemi veri, dai problemi veri del mondo del lavoro ai problemi di una pubblica amministrazione che non funziona, di uno Stato che spreca decine di miliardi di euro di risorse pubbliche e il problema è che manca la volontà politica anche nel Governo tecnico.